Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi vedremo insieme un filato che è una vecchia conoscenza di casa Tessiland, ma che si è rifatto il look. Aggiungendo quindi un tocco di luce, di brillantezza e scintillio, stiamo parlando del Drake Lux. Ecco qui il nostro Drake Lux, un gomitolo in cotone ecologico riciclato con questo delicato inserto in lurex. È composto al 97% da cotone e al 3% da fibra metallica. Si tratta di un filato al 100% sostenibile, certificato BC e GRS, oltre che quello Ecotex. Il peso del gomitolo è di 50 grammi per una lunghezza di 125 metri all'incirca. Sono consigliati i ferri dal 4 al 5, mentre gli uncinetti dal 3 al 4. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio. È consigliato di non superare una temperatura di 40 gradi, mentre invece nel momento dello stilaggio consigliamo di non superare una temperatura di 200 gradi. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta per il tetracoloretilene. Per un'asciugatura ottimale è sconsigliato l'utilizzo dell'asciugatrice e inoltre è sconsigliato il candeggio. Questa è soltanto la prima delle tante colorazioni luminose che questo filato propone. Scopriamole tutte! Scopriamole tutte! Scopriamole tutte! Scopriamole tutte! Questo filato si presenta come un validissimo alleato per tutte quelle creazioni, dal sapore un po' country o shabby è diventato infatti nel tempo il filo conduttore per questo genere di creazioni l'aggiunta dell'urex ora renderà queste davvero uniche particolarmente preferito inoltre per le creazioni granny ma non solo borse o accessori pensate anche alle copertine ai cardigan e perché no anche i cappellini una moda che sta davvero spopolando sul web e in giro per tutto il mondo abbiamo visto infatti questa tecnica utilizzata anche per accessori di home decor come ad esempio cuscini sotto pentole sotto bicchieri insomma davvero non c'è limite alla fantasia altra caratteristica davvero unica di questo filato è la sua sostenibilità si tratta infatti di un filato 100% made in italy che nasce da un processo produttivo altamente sostenibile filati come il reklux nascono infatti dai ritagli di capi di abbigliamento che vengono poi processati in una maniera molto particolare che permette di creare questi splendidi filati ecologici questa produzione prevede infatti anche un minor sfruttamento di fonti energetiche ma anche di acqua insomma un filato davvero unico per le sue prestazioni ma anche dal punto di vista produttivo e della composizione come sempre tessilan infatti pone particolare attenzione anche all'ambiente inoltre grazie al suo prezzo contenuto e alla vastissima gamma di colori creare i vostri amigurumi top blues e accessori accessori per l'home decor sarà davvero un gioco da ragazzi aspettiamo quindi di vedere le vostre creazioni ed io a questo punto vi ricordo come sempre di seguirci sulla pagina facebook meglio di maya su instagram tik tok pinterest e sul nostro blog dove ogni settimana troverete degli interessanti spunti creativi al prossimo tessilan news